Anche quest'anno i servizi sanitari alcamesi presenti alla giornata mondiale del RENE. In Piazza Ciullo ad Alcamo dalle 9 del mattino alle 19 del pomeriggio con il proprio staff medico e infermieristico attraverso delle visite specialistiche gratuite, delle analisi delle urine e del sangue gratuite ovviamente tutto si basa sul concetto della prevenzione in campo nefrologico. Puntiamo molto su questo, noi questo tipo di lavoro lo facciamo quotidianamente tutto l'anno ma perché in questa giornata particolare chiaramente tendiamo a sensibilizzare la popolazione attraverso anche l'aiuto importante dei medici di medicina generale che tra l'altro coinvolgiamo appunto in questo tipo di iniziative. Il servizi sanitari alcamesi è ormai un punto di eccellenza non solamente nella nostra zona nella provincia di Trapani ma un punto di eccellenza a livello anche siciliano per i servizi che è data. La nostra è una realtà trentennale ma ormai si allarga anche ad altre specialistiche che chiaramente diventano importanti nel lavoro che svolgiamo e aumenteremo anche i servizi specialistici nei prossimi mesi in modo tale da offrire ai pazienti un punto di riferimento certo una volta che arrivano qui. La nostra attività del giorno 9 marzo è un'attività che ovviamente faremo gratuitamente nei confronti dei cittadini che proseguiremo il giorno 10 e 11 in azienda quindi per chi magari non dovesse riuscire a poter venire il giorno 9 in piazza sappiate appunto che c'è la possibilità e la disponibilità della nostra azienda a eseguire lo stesso tipo di controllo in maniera gratuita anche nei giorni 10 e 11 marzo. Ma è un'attività che noi comunque facciamo sempre abbiamo un collegamento diretto con i medici di medicina generale che chiaramente si frappongono fra noi e il paziente chiedendo dei consulti specialistici. Siete voi che andate incontro all'ipotetico paziente ipotetico fruitore della vostra struttura? In una situazione generale in cui la sanità pubblica ovviamente soffre una serie di cambiamenti anche alcune volte che non vanno incontro purtroppo al cittadino la parte privata deve sopperire a questo tipo di esigenze e quindi quanto più specialisti che offriamo in termini di consulti quanto più comprendiamo le esigenze del cittadino che magari ovviamente in un quadro confuso trova un punto di riferimento importante e questo diventa chiaramente non soltanto per noi che facciamo questo come attività ma anche e soprattutto per il cittadino un momento importante. Seguiremo anche noi con la nostra telecamera questi tre giorni 9 marzo piazza Ciullo dalle ore 9 del mattino alle 19 del pomeriggio una no stop e poi il giorno 10 e 11 di marzo direttamente in azienda in via dei 1184 dove troverete ovviamente sempre il nostro staff ad aspettarvi.